Bene, è il momento delle cene, è il momento dei pranzi, è il momento di festeggiare insieme e c'è un pericolo che si annida in questi momenti e sono i conflitti familiari. O sono le situazioni solite che si verificano in casa quando ci sono dei conflitti latenti e in qualche modo c'è un malessere che cerca di esprimersi. Allora ci sono delle tecniche per difendersi, ce ne sono molte. Vi rimando a un libro molto interessante di David Lieberman, Come trattare gli altri, edizioni TEA. Per il resto ci sono delle strategie per resistere agli attacchi verbali o alle situazioni di tensione. La prima cosa è respirare. Respira e ascolta bene le sensazioni e le emozioni del tuo corpo in maniera tale che in qualsiasi momento dovesse uscire una mezza frase, un'allusione, un segnale non verbale, paraverbale, verbale, che rischia di innescare un conflitto, tu lo puoi percepire. Quindi, se sei in una situazione di quel tipo, mantieni il controllo e respira in questa maniera. Poi, la seconda regola è mantieni un'intenzione positiva, ossia che le cose andranno per il meglio e che la giornata, il momento della festa andrà per il meglio. Terza strategia che ti consiglio. Non appena emerge una provocazione, non so, per esempio emerge una critica di qualcuno nei confronti di qualcun altro, lasciala cadere, interrompi il discorso, cambialo, sposta l'attenzione su un altro discorso ancora. Quarta caratteristica, quarta tecnica che ti suggerisco. Se è possibile chiedi alle persone con cui condividi il tuo tempo di non usare la TV. E di spegnerla, perché la TV è tutto ciò che crea confusione nel momento dell'incontro, crea terreno fertile per i peggiori aspetti della relazione. Una quinta strategia. Se vieni attaccato direttamente con una critica, puoi rispondere «Beh, possiamo lasciare spazio per la critica un altro giorno, oggi che ne dici di festeggiare». E quando parli e fai affermazioni di questo tipo, ti consiglio di tenere un tono di voce discendente verso il basso, di guardare la persona negli occhi con un sorriso. Se vuoi puoi anche sfocare lo sguardo per rendere la tua posizione più precisa. Ricordati che più è problematica una famiglia, più, come accade in tutti i gruppi, ci sarà qualcuno che cercherà un colpevole. È il classico fenomeno del capo respiatorio, cercare qualcuno che farà cestino alla famiglia su cui scaricare i malumori. E lui non ha fatto bene questo, lui non ha fatto bene quello, eccetera, eccetera. Allora, potresti essere tu il cestino designato o potrebbe essere un'altra persona. Ecco, nel caso in cui sia un'altra persona, non partecipare a questa situazione e offri il tuo sostegno alla persona che viene attaccata. Non so, per esempio potrebbe essere tuo fratello, tua sorella, mamma, papà, ricordando che cosa fa di positivo. Se invece sei tu, puoi usare qualche frase come quella che ti ho descritto prima, quella di rimandare le critiche un altro giorno. Puoi ricorrere a quelle che vengono chiamate le rotture di schema all'interno del mondo della programmazione neurolinguistica e dell'ipnosi conversazionale. Ossia, fai qualcosa che crea stupore, per esempio qualcosa che non si aspettano. Ricordiamoci questo, la comunicazione è continua sulle solite modalità perché chi invia il messaggio, chi lo riceve, continuano a comportarsi secondo schemi prestabiliti. Il modo migliore per cambiare il modo di comunicare all'interno di un gruppo e anche all'interno di una famiglia è rompere questi schemi prestabiliti. Quindi fare qualcosa per cui l'altro rimane spiazzato. Per esempio, se si rivolge a te in una certa maniera, tu puoi sorridere e sistemare la tavola o alzarti, fare due passi, oppure semplicemente far finta di aver ascoltato e rispondere a un'altra cosa come se improvvisamente fossi uscito dai gangheri. Ci sono un'infinità di tecniche perché la comunicazione è un'arte, come dico sempre, e quindi ci sono modalità infinite di rompere gli schemi. Una volta che hai creato spiazzamento, sorpresa, stupore, allora puoi introdurre il tuo modo di guidare la relazione, per esempio parlando di qualcos'altro. Bene, naturalmente l'argomento non finisce qui, ma ci vediamo per un altro appuntamento su questi temi. E intanto buoni pranzi e buone cene.